Buongiorno a tutti, questa mattina parliamo della dottrina cosmica. Volevo presentarvi il libro che ho tradotto di Dion Fortune andando nei luoghi dove lei stessa ideava questi concetti, li trasmutava in parole, in suoni percepibili dal sé inferiore, quindi dalla mente razionale e quindi onore a lei che è riuscita a fare questo grande lavoro. Dunque, come sapete, per tradurre questi libri generalmente vado nei luoghi dove questi concetti sono stati ideati, recepiti, resi forma, resi parole, proprio perché lì esistono le memorie, sono ancora radicate le memorie del momento in cui è stato trasmutato questo concetto in verbalizzazione, in scrittura. Ecco, la dottrina cosmica ha una marcia in più a mio avviso, ha un qualcosa che è indefinibile, di primo acchito, in prima apparenza sembra un libro veramente complicato, dei concetti che magari non abbiamo mai ascoltato, non abbiamo mai recepito o probabilmente a cui non abbiamo mai posto la nostra attenzione. In realtà è un libro molto profondo come tutti quelli che ha scritto ovviamente di un porciol. Questo, come dicevo prima, ha una marcia in più. Dunque, partiamo dal presupposto che questo libro è stato canalizzato. Quindi Dion Fortune ha ricevuto comunicazioni da quello che lei chiamava i piani interiore riguardante l'universo. Lei si è prestata ad essere canale dei maestri disincarnati i quali davano a lei delle nozioni, delle nozioni che andavano oltre la scienza, andavano oltre il concetto di magia e parlavano di un processo evolutivo, del processo evolutivo che va oltre il concetto di Big Bang o della cosmologia in generale. Lo posso definire un concetto che va oltre quello che noi siamo generalmente in grado di recepire. Ecco, è un libro, come dicevo prima, che può destare un po' di timore in quanto ci sono dei concetti profondi, esaminati profondamente, di cui non abbiamo appunto magari mai sentito parlare o ne abbiamo sentito parlare in termini scientifici. Lei è riuscita a trascrivere dei concetti che non sarebbero stati identificabili, come dicevo prima, dalla mente, dal sé inferiore, poiché rimangono generalmente ad un piano superiore, quindi nell'individualità prima ancora dell'incarnazione o vengono trasmutati poi in coscienza e poi questi rimasugli, queste briciole, vengono poi date alla mente razionale che le trasmuta appunto in concetti filosofici. Quindi sono veramente i rimasugli, quelli che possiamo pensare, possiamo studiare, a cui possiamo affacciarci. Ecco, quello che mi piace molto della dottrina cosmica è che si affaccia all'universo che c'è oltre il sé superiore e quindi va ancora oltre alla definizione, il concetto di riallacciamento con l'anima, si affaccia quindi a quello che è definito il cosmo, l'evoluzione cosmica. Dunque, lei stessa dice che questo libro è stato concepito per allenare la mente piuttosto che informarla, nel senso che non ci sono delle vere e proprie informazioni, ma leggendo oltre le righe, un iniziato o una persona che conosce, che ha studiato o che recepisce la sfera che sta oltre la mente, riesce a comprendere dei concetti molto alti di magia. Ovviamente non sono scritti in forma leggibile, nel senso che è bene andare oltre le righe e quindi come in tutti i libri di The Unfortune, quello che è il concetto primario viene scritto, viene occultato dietro a una filosofia che può recepire, diciamo, la maggior parte delle persone, ma soltanto l'iniziato riesce a recepire, l'iniziato o, ripeto, la persona che studia profondamente un concetto esoterico riesce a recepire il concetto che sta dietro. Questo libro è stato canalizzato dal 1922 al 1924, lei in quel periodo lavorava molto a Glanstonbury nel suo tempio di Glanstonbury ed è stato canalizzato da lei in compagnia ovviamente del suo gruppo. Charles Thomas Lovday in quel momento aveva un ruolo molto importante nel suo gruppo e quindi l'ha aiutata in tutta questa operazione ad elaborare i concetti e a trascriverli, tant'è che è stato lui stesso poi a disegnare quello che poi troverete nel libro, tutto quello che è l'identificazione della cosmologia dei concetti che sono stati espressi appunto nei diversi capitoli dei libri. Ovviamente, come dicevo prima, questo è un libro che è veramente ricco di informazioni rilevanti per la magia pratica. Proprio per questo motivo non è stato pubblicato da Dion Fortune, è stato tenuto all'interno del suo gruppo per numerosi anni fino a che poi appunto hanno deciso di renderlo pubblico proprio per il motivo che ho spiegato prima, poiché i concetti fondamentali, quelli relativi in relazione alla magia, non potevano essere compresi dalle persone che volevano magari un'istruzione del cosmo in generale. Allora, Dion Fortune in tutto questo parla delle influenze esterne al sistema solare, le trasformazioni del logos solare che non sono state causate da influenze provenienti dal cosmo, sono influenze che derivano dall'evoluzione del sistema solare mediante gli sciami delle scintille divine, così sono state chiamate, e che viaggiano lungo i piani e poi ritornano, quindi c'è questa influenza che è un po' come la, diciamo, la movenza, ecco, della vibrazione dell'energia. Alla fine tutto rispecchia quello che è l'andirivieni, il flusso, il riflusso, le maree, le maree lunare, le maree cosmiche, proprio per l'appunto. Nel suo libro Dion Fortune parla dell'alba della manifestazione, delle forze del male, i dodici raggi, i sette piani cosmici, la costruzione dell'atomo, l'evoluzione atomica nei piani cosmici, ecco, tutto questo può fermarci, può apparire, come dire, esterno a noi o difficile da comprendere. In realtà lei lo spiega in una modalità per cui se la persona riesce ad andare oltre le righe ne trova, come dicevo prima, il concetto. Queste influenze che interagiscono attraverso il cosmo alla madre terra sono veramente molto importanti, molto importanti perché noi ne siamo coinvolti, volente o nolente, che noi le conosciamo o che non le conosciamo, ne siamo comunque coinvolti ed essendone coinvolti dobbiamo, se possibile, fin dove è possibile, comprenderle. Comprenderle, come dicevo prima, non soltanto, possibilmente con la mente razionale che percepisce una forma, la sostanza, lo studio, ma non percepisce quello che è la verità, l'essere che, diciamo, va oltre il sé superiore. Allora, queste influenze, come dicevo prima, agiscono sull'evoluzione umana e sono nell'universo manifesto. Lei alla fine di questo libro, cosa che ritengo molto importante, parla della legge dell'azione e della reazione, la legge della limitazione, la legge delle sette morti, la legge dell'impatto, la legge di polarità, della trazione dello spazio esterno, della trazione del centro. E lo ritengo veramente molto importante poiché sono quelle leggi, come si diceva prima, le leggi cosmiche attraverso cui ci sono tracce nello spazio e noi possiamo, così, aprendoci ad essere canale a queste manifestazioni, percepirne l'influenza. Ma anche se non la percepiamo, comunque siamo lo stesso, come dire, onde e canali di questa influenza. Quindi ci diventa magari più difficile comprendere perché sta succedendo un qualche cosa in un certo momento della giornata o in un certo momento della nostra vita o perché siamo stati coinvolti in qualcosa che ci ha fatto male e che magari ci ricordiamo di averlo già vissuto, ma non sappiamo identificarlo in altre vite. Il concetto di tracce nello spazio che è stato introdotto all'inizio della dottrina cosmica, come ripeto, è molto importante. Ogni azione e reazione nello stadio terreno forma un'abitudine, così come ogni reazione, azione e reazione ripetuta, trascrive una traccia nello spazio e tende a diventare ovviamente stereotipata. È la stessa cosa su due piani differenti. Quindi azione e reazione che nello spazio, quindi nel cosmo, tende a diventare stereotipata, alla fine allo stadio terreno diventa abitudine e questa è la forma di tracce nello spazio che poi si può trasmutare appunto anche mediante le operazioni rituali. Allora, queste leggi sono state tutte stabilite ovviamente all'inizio dei tempi e Dion Fortune ne trascrive soltanto una parte. si dice che ci siano altre parti di quello che è stato pubblicato ora, quindi della dottrina cosmica, che sono state assolutamente tenute segrete da lei e dal loro gruppo e dal suo gruppo proprio perché si ritenevano pericolose. Così come si riteneva pericoloso questo libro, la dottrina cosmica, all'inizio ed è questo il motivo per cui loro l'hanno tenuto assolutamente soltanto per loro. Dunque, queste leggi come si diceva prima sono stabilite all'inizio dei tempi, sono nate con l'evoluzione dei signori della fiamma, con quello che lei chiama i signori della fiamma, altre con i signori della forma e altre con i signori della mente. Se ben vedete, qui ci sono tre fasi, tre fasi della formazione. E quindi in questo momento noi, ossia Dion Fortune, stava trascrivendo quello che possiamo definire delle tracce che provengono ovviamente dallo spazio, che un giorno saranno le leggi della natura per gli esseri viventi. Questo è chiaro, si può trascrivere, può essere, diciamo, percepito dai nostri successori tramite le memorie. Quindi tutto avviene, diciamo, a livello incosciente tramite quello che noi lasciamo un messaggio non scritto, ecco, non scritto che parte dai signori della fiamma, che passa ai signori della forma e ai signori della mente. Dunque, lei dice, pensate a queste tracce nello spazio come se fossero impilate ai livelli di un edificio. Il piano terra è costituito dalle leggi della fisica e dall'astronomia, se vogliamo, dalla scienza, che sono stabilite, sono state stabilite dai signori della fiamma. Il primo piano che richiede supporto è il piano della terra ed è costituito dalle leggi della chimica e della biologia che sono state stabilite a sua volta dai signori della forma e così via. E questo lo ritroverete ovviamente nella dottrina cosmica. Attenzione a non farvi appunto prendere dalle parole o dai concetti che magari finora non avete valutato o che non conoscete poiché questo diventa appunto sinonimo di incomprensione. Mentre invece andando oltre la forma in cui è stata scritta alla dottrina cosmica potrete ricevere una formazione veramente molto grande a livello di magia superiore con i concetti magici. Direi che più o meno insomma ho detto abbastanza e certo c'è molto ci sarebbe veramente tanto da dire rispetto alla dottrina cosmica ma quello che è l'importante è entrare a far parte della dimensione della dimensione e del momento in cui Dion Fortune ha trascritto questo concetto e la canalizzazione questo momento in cui i maestri superiori davano a lei la possibilità di accedere a questo ampio concetto che ripeto è formativo a livello di magia superiore è un momento veramente molto ampio che apre le porte che connette al divino che rispecchia nei piani inferiori quindi quello della materia quello che sono le leggi cosmiche veramente molto importante perché come si diceva prima tutto riflette tutto noi siamo lo specchio di quello che è la forma lo specchio di quello che è l'energia e se noi non conosciamo non ne conosciamo i principi non possiamo accedere a una certa formazione quello che mi è piaciuto molto è il capitolo delle sette in cui parla delle legge delle sette morti e anche in questo caso lei parla di formazione se voi andate a leggere oltre le righe c'è una formazione che va oltre al concetto stesso e che apprenderete poi ovviamente operando lavorando meditando ecco andando oltre per l'appunto al sé inferiore quindi alla mente alla mente razionale dunque nel capitolo delle leggi delle sette morti c'è la prima morte ed è composta da linee che si intersecano e creano stabilità cessando di esistere individualmente quindi si tratta di una come dire una salita nei piani superiori dove si queste due linee in cui il movimento si neutralizza vicenda cessano di esistere come movimento e diventano come dice lei un centro di stabilità la seconda morte parla di trasmutazioni su differenti piani quindi l'azione la reazione che sono uguali opposte al loro sul piano al loro inizio esse agiscono come dice lei reagiscono e continuano a manifestarsi in forma ciclica quindi attenzione anche qui alla alla nascita alla morte alla successione alla reincarnazione la terza morte è assolutamente il concetto della comprensione del senso della morte lei dice ed è una frase che mi piace molto pascoliamo nei campi della terra e ci sdraiamo nei campi del cielo per masticarne il boccone quindi è un po' come l'intervallo dobbiamo considerare la morte come un momento di pausa in cui riassumiamo quello che abbiamo la nostra esperienza che abbiamo vissuto in campo terreno e ci riappropriamo di quello che è la nostra individualità ma non ovviamente in forma unica ecco quindi noi facciamo parte del cosmo facciamo parte in quel momento del cosmo e rivediamo sotto un'altra forma quello che è successo in terra la quarta morte lei parla della personalità collegata all'individualità quindi lo stadio del sonno che lei chiama morte in miniatura allora il quarto corpo ossia il quattro il numero come sapete di collegamento è l'aspetto più alto della personalità ed è quell'aspetto che si collega all'individualità e non a caso questo tipo di concetto che lei chiama la quarta morte collega il senso terreno quindi il momento che stiamo vivendo in terra a un insegnamento superiore che è quello dello stadio del sé superiore quindi la natura del sonno che va studiata non è sufficientemente compresa ed è uno stadio per cui a volte spesso vengono passati dei concetti che altrimenti non saremmo riusciti ad apprendere la quinta morte che è la morte della personalità quindi la manifestazione superiore della personalità diciamo che lo spirito quando si è a un livello superiore finalmente come dice Dion Fortune osserva il volto di suo padre fino a che la coscienza non si stanca della sua luminosità chiude gli occhi e dorme e dormendo sogna dice i suoi desideri insoddisfatti e così rinasce perché sul piano del desiderio uno stato di coscienza è un luogo questo è quello che lei ha scritto quindi si rinasce si rinasce per mettere a punto di nuovo dei delle esperienze che vengono elaborate sotto il piano evolutivo ovviamente comprese o non comprese comprese sotto una forma o sotto un'altra la sesta morte è la trans la trans è la connessione dal piano terreno ai piani superiori in uno stato di semicoscienza quindi è il corpo che dorme ma è l'anima che sveglia è attiva su questo piano può agire sia sulla sfera superiore che allo stesso tempo sugli aspetti inferiore quindi gli istinti con il corpo nel corpo è un aspetto veramente molto importante dove si elabora e vengono vissuti elaborati più che altro dei concetti che vengono tramandati dai maestri appunto di non terreni ecco disincarnati l'ultima morte la settima morte è l'illuminazione quindi lei dice che l'iniziato è l'uomo ossia l'uomo che percorre i misteri è colui che vive specificatamente questa morte quindi lascia andare la sua personalità per viaggiare nell'individualità quindi la settima morte è l'essere partecipe di un progetto divino attraverso cui si è canali canali di questo aspetto dunque questo è l'aspetto delle sette morti un concetto che mi piace veramente molto ma come detto prima la dottrina cosmica non è solo questo ovviamente non è non fa parte di un romanzo lei ha trascritto dei concetti molto profondi che sono non sono per tutti ma vanno studiati vanno studiati sotto un altro aspetto vanno elaborati vanno fatti propri da da sé superiore detto questo credo che ne riparleremo a sufficienza in altri momenti poiché come dicevo prima è un concetto che va espresso in diverse maniere in diverse forme visto sotto diversi profili e tutti coloro che hanno preso la dottrina cosmica in mano nel passato hanno elaborato un concetto proprio che hanno poi tradotto in pratica nel lavoro magico detto questo vi auguro una buona lettura e sono sempre pronta a rispondere alle vostre domande ovviamente a lavorare insieme a voi un abbraccio a tutti e buona giornata ciao ciao